Allora Presidente, non abbiamo visto insieme il libro perché siamo distanti e non riusciamo a sfogliarlo insieme, però noi guardando le fotografie di quest'anno volevamo appunto cominciare con lei questa chiacchierata da quello che sta succedendo in Medio Oriente. Ci sembra chiaramente il tema più pressante, come ci ha ricordato anche il Presidente Anselma, dal 7 ottobre abbiamo visto qualcosa di incredibile, la ferocia dei terroristi di Hamas, e poi abbiamo visto una reazione di Israele che ha colpito migliaia di civili. Insomma l'opinione pubblica è disorientata e veramente non si riesce a capire chi può prendere il bandolo della matassa e come si può provare a far ragionare e a cominciare a costruire un percorso. Io le volevo chiedere proprio questo, secondo lei che cosa si può fare concretamente come paesi del G7, come comunità internazionale con le difficoltà che conosciamo per provare ad aprire lo spazio per una soluzione politica che possa essere definitiva. E le chiedo anche se anche lei crede che in questo paese, da noi, nella nostra opinione pubblica, ci sia un antisemitismo strisciante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.